L'idea è nata quando io stavo frequentando l'università, in particolar modo il corso di restauro cinematografico. Durante, mentre stiamo facendo lezioni in laboratorio, ho conosciuto questa figura, la protagonista del film, Olivia Versopellis. La cosa che mi colpì in quel momento, raccontando la sua storia, era la forza e l'energia, all'età di 93 anni, di voler andare alla ricerca di un film di cui non se ne ha ancora più traccia. Adesso io sinceramente non so se siamo stati noi a chiamarla o se è stata lei a venire.